Superare il periodo di crisi che colpisce un numero sempre maggiore di lavoratori e famiglie. Per raggiungere questo obiettivo, Isernia punta sull'economia civile e sul volontariato attraverso il progetto CIVES Civic Economy System. Siglato infatti il protocollo di intesa tra il comune e l'azienda Pentra Innovation Factory per portare avanti, nell'ambito del bando periferie, un modello di welfare all'avanguardia alimentato anche dal punto di vista finanziario con il sistema della community participation e attraverso la partecipazione attiva da parte dei cittadini. Siamo particolarmente contenti perché si tratta di una piattaforma con cui le attività di volontariato potranno essere tra virgolette valutate e accreditate e soprattutto è un modo per coinvolgere i cittadini all'interno della vita sociale. In sostanza l'iniziativa prevede il potenziamento dei servizi di scala urbana tra cui lo sviluppo di pratiche del terzo settore. La valutazione poi di queste attività di volontariato che molti di noi fanno in modo gratuito permetterà alle associazioni di ricevere dei contributi per le attività che svolgono quindi è un modo per dare più soldi e risorse alle associazioni che si occupano del sociale e della cultura.